Detective Beckett ha mentito al suo superiore. Le ho detto la verità, non so a cosa ci abbia aggrediti, perciò non è una bugia, chiaro? L'omissione è una bugia invisibile. Castle, non dirmi che non sei spaventato dopo quello che ci è successo. Insomma, che cosa ci ha aggrediti? Non lo so, ma credo di conoscere un modo per distogliere la mente dall'accaduto. Ti interessa? Non sai quanto mi sia mancato tutto questo. Hai avuto un'amnesia per due mesi, a me è mancato di più. L'hai sentito? Molto divertente. No, scherzo. No, sento solo la musica. Mi hai sfiorato la gamba? Sì, penso di sì. Ok. Che c'è? Ho la sensazione che qualcuno ci asservi. Sarà solo una tua impressione. Sai cosa, forse non è stata una buona idea. No, no, ferma, ferma, ferma. Ferma. Aspetta, aspettami qui. Torno subito. Visto il corso di sopravvivenza all'apocalisse zombie, non è stata una perdita di tempo. Perfetto, ok. Che c'è? Rendi le cose da nerd. Sexy. È vero. Dovravamo... Mamma! Mamma! Marta! Mi dispiace molto, non pensavo che fossi a casa. Volevo solo prendere il filo interdentale e a quanto pare l'ho trovata. Oh, santo cielo! Aspettate, li balliamo. No, non c'è.